è stata chiamata scena scena unità e non è altro che una iniziativa collettiva da parte degli artisti per aiutare i lavoratori appartenenti al mondo dello spettacolo questa iniziativa è nata se non erro proprio del grande fedex al setolo federico lucia pensate che sono stati raccolti la bellezza di circa 2 milioni di euro il rapper milanese ha presentato questo progetto segreto al quale ha lavorato per ben 14 giorni di tempo insieme ad altri 70 artisti che fanno parte del mondo dello spettacolo e della musica un unico grande fondo di artisti insieme alle maestranze un'iniziativa importante, un'iniziativa di gruppo attraverso la quale sono stati raccolti 2 milioni di euro in soli due settimane di tempo, 14 giorni è un modo probabilmente, questo secondo me, lo dico senza falsa retorica come direbbe Andrea Di Pre per spronare, per far di più, per aiutare, per supportare proprio, diciamo così, il mondo dello spettacolo e questa è una cosa fondamentale per far sì che il mondo dello spettacolo vada a ripartire e abbia i numeri per farlo 2 milioni di euro non è poco secondo me sono sempre soldi, sono sempre bei soldi che devono essere messi in campo per aiutare lo spettacolo il mondo dello spettacolo e per far sì che effettivamente parlando vada a riprendersi grazie a tutti, questa è un'iniziativa che dà se lancio secondo me è un mondo dello spettacolo poi ho convinto a trovarmi con FedEx al secolo per questa ottima idea, per questa ottima iniziativa ciao a tutti da Ariadno, un'autorità e complimenti a FedEx